Si sono celebrati questa mattina a Ravenna, nella chiesa dell'Opera di Santa Teresa, i funerali di Don Matteo Solaroli, ex direttore di Santa Teresa, scomparso nei giorni scorsi all'età di 85 anni. Al rito ha partecipato una gran folla, a testimonianza di quanto forte e partecipato fosse il rapporto di affetto e stima fra la cittadinanza ravennata e questo sacerdote che nella vita si è completamente speso per la sua comunità. Non a caso, infatti, spesso era indicato con l'appellativo di il preti di tutti. Presenti anche tutte le massime autorità locali. A celebrare la funzione religiosa l'arcivescovo Giuseppe Verrucchi, assieme all'attuale direttore dell'Opera di Santa Teresa, Don Paolo Pasini. Con loro tutto il clero della diocesi ravennate. Non ha voluto mancare al rito funepre neppure il cardinale merito Ersiglio Tonini, che ha avuto parole commosse e affettuose per Don Matteo, ricordando con le lacrime agli occhi la loro lunghissima amicizia ed esortando i presenti ad accostare senza esitazione la parola santo alla figura e all'opera di Don Matteo Solaroli. Di lui si ricorda in particolare la direzione dell'Opera di Santa Teresa, ma nel corso del suo lungo sacerdozio, venne ordinato il 29 giugno del 1949, Don Matteo ha svolto altri non meno significativi incarichi. Fra questi, nel 58, divenuto parroco di mezz'anno, ne ricostruì la chiesa, organizzando anche un laboratorio di confezione che occupava personale femminile.